Angelo De Cesare Chieti, sono appassionato della musica dei Poo, sono un loro fan da tantissimi anni e non potevo perdere questa occasione di vedere questa ulteriore reunion che aspettavamo ormai da quasi sette anni. Un auguro speciale che possono continuare a riscuotere ancora tanto successo anche nella memoria di Stefano Dorazio.